I caseifici sono la nostra casa, da sempre. Ogni giorno dobbiamo mungere le nostre bovine. Il nostro latte va usato fresco, senza conservanti. Per questo i nostri casari non lasciano i caseifici, restano a casa, come voi. Non sono eroi, quelli sono altri, lavorano negli ospedali. Ma il latte, il pane, il parmigiano reggiano non possono mancare in una casa. Non c'è bisogno che facciate scorte. Noi ci impegniamo a rifornire il paese, tutti i giorni.